Beh sì, diciamo che purtroppo l'aumento dei ricoveri sia con sintomi lievi sia dei malati gravi ormai sappiamo che segue l'aumento dei casi dopo circa 7-10 giorni quindi ieri noi abbiamo avuto una leggera diminuzione dei casi però a fronte di una consistente diminuzione del numero dei tamponi come avviene ormai di consueto ogni lunedì però di fronte a questa leggera diminuzione dei casi c'è stato un importante aumento dei ricoveri dei malati in terapia intensiva e purtroppo anche dei pazienti deceduti questo è l'effetto dell'aumento dei casi della scorsa settimana noi dobbiamo guardare alle medie settimanali e le medie settimanali ci dicono che ormai i casi in Italia aumentano da addirittura 10 settimane consecutive e non solo aumentano i casi ma il trend di crescita quindi la velocità con cui stanno aumentando i casi sta accelerando nell'ultima settimana l'aumento dei casi è stato molto più consistente delle settimane precedenti quindi è evidente che siamo entrati in una dinamica di espansione dell'epidemia pericolosa che va controllata e quindi ben vengano misure che tentino di arginare questa espansione questo era prevedibile facendo proprio un calcolo che ci ha illustrato lei in questo momento andando avanti di settimana in settimana appunto perché poi noi purtroppo dico io perché secondo me non è la giusta chiave per leggere siamo fermi al dato giorno per giorno no? e invece chi poi si occupa di studi e di dati sa che dobbiamo guardare la settimana quantomeno sì il dato giornaliero non ci indica nulla i dati vanno sempre guardati da una prospettiva storica e quindi guardare per esempio alle medie settimanali è molto più indicativo questa situazione era prevedibile? ebbene sì era prevedibile perché noi sapevamo che il virus non era stato sconfitto il virus è rimasto sempre in circolazione abbiamo visto come per esempio in altri paesi europei la seconda ondata è arrivata prima e i contagi sono cresciuti molto prima che in Italia noi abbiamo avuto dei mesi di tempo, i mesi estivi in cui il virus ci ha concesso una tregua anche questo era prevedibile perché è un virus respiratorio e di conseguenza come tutti i virus respiratori era facile immaginare che l'estate si indebolisse in questi mesi ci siamo dovuti organizzare qualcosa è stato fatto, qualcosa probabilmente no però è anche vero che adesso chiaramente siamo più attrezzati di prima per reggere a questa seconda ondata il punto è giocare di anticipo esiste un parametro molto importante, questo parametro si chiama tempo di raddoppio il tempo di raddoppio ci indica in quanti giorni i casi raddoppieranno rispetto ad oggi questo tempo di raddoppio è drammaticamente crollato nelle ultime settimane eravamo a circa 20 giorni un paio di settimane fa 14 giorni la settimana scorsa, oggi siamo a 7 giorni che cosa significa un tempo di raddoppio di 7 giorni? significa che se le cose rimarranno così fra una settimana noi avremo il doppio dei casi rispetto ad oggi se oggi abbiamo in media 5.000 casi fra una settimana potremmo averne 10.000 e quindi gli effetti diciamo così di questa nuova stretta che voglio dire partirà nelle prossime ore quando li vedremo noi? per vedere gli effetti delle misure adottate questa notte dal governo serviranno almeno un paio di settimane noi purtroppo non dobbiamo stupirci se nel corso di questa settimana nelle giornate di mercoledì di giovedì quando toccheremo un nuovo picco di tamponi purtroppo vedremo molto probabilmente i casi aumentare aumentare anche rispetto alla settimana precedente non dobbiamo stupirci se sfonderemo la quota dei 6.000 contagi giornalieri perché come sappiamo i dati che noi registriamo oggi sono lo specchio di quello che è accaduto 10 giorni fa dei nostri comportamenti di 10 giorni fa tutto quello che noi mettiamo in campo a partire da oggi lo vedremo nei dati a partire fra 10 giorni, 2 settimane senta lei all'inizio